Ciao, io sono Antonio e oggi, come ogni martedì, nuovo video a tema Harry Potter. Ragazzi, lo so, mi davate ormai per morto, ma invece sono qui, sono tornato, mi sono preso una vacanza bella lunga, ma sono pronto a ricominciare più carico che mai e, ragazzi, ho già da parte tanta, tantissima roba da mostrarvi e quest'anno spero di poter portare più video a settimana. Già da questa dovrebbero essere sicuramente almeno due. Bene, io prima di cominciare con questo pacco che mi arriva da mini Big World Collectibles con delle cose Noble Collection e non solo davvero molto molto belle, voglio spendere due parole esatte per una persona, una di voi, che si chiama Cristina. Cristina è stata gentilissima, mi ha contattato su Instagram e mi ha inviato, senza volere nulla in cambio, io nonostante le mie insistenze, mi ha inviato un bel po' di figurine che mi mancavano per completare il mio album di animali fantastici. Io davvero l'ho già ringraziata in privato, ma Cristina, grazie, grazie mille, sei stata davvero gentilissima e davvero spero prima o poi di potermi sdebitare. Quindi ecco qui il pacchetto che mi è arrivato, l'ho ancora aperto, ci tenevo a farlo in video, quindi facciamolo assieme, ecco qui, e vediamo quali sono queste figurine che mi mancavano. Qui c'è un foglietto che leggerò in privato, eccole qui, ragazzi, sono tantissime. Ne abbiamo una con Jacob, abbiamo quelle olografiche, questa qui con il giovane Silente, questa con lo Zoo, erano tutte quelle più rare. Questa qui sempre olografica, sempre così luccicante, con Tina e Newt, il Wallaby, Wallaby, non ricordo come si chiama, questa specie di insetto con le ali in testa, Harry sulla scopa e poi l'erumpent lenticolare. Non vedo l'ora di andarla ad attaccare sul mio album, quindi grazie, grazie davvero, infinite Cristina e adesso direi che è giunto il momento di cominciare col primo vero unboxing di quest'anno. Eccolo qui, come vi dicevo, questo pacco arriva direttamente dai ragazzi di Mini Big World Collectibles, come ogni mese e questa volta, ragazzi, ci sono ben due bacchette Noble Collection, tutte e due che arrivano dal nuovo film di Animali Fantastici, quindi non vedo assolutamente l'ora di aprirle assieme a voi. Ovviamente, ragazzi, colgo l'occasione per ricordarvi di andare su Mini Big World Collectibles, vi lascio tutti i link utili sotto in info box, vi lascio anche il mio codice sconto serie 5 per avere 5 euro di sconto su una spesa minima di 30 e naturalmente tenetevi sempre d'occhio anche sui vari social perché ci sono sempre offerte, sempre nuove offerte ogni mese, ad esempio il 3x2, le spese di spedizioni gratuite e tantissime altre cose molto molto interessanti. E, ragazzi, adesso però bando alle ciance perché non posso più aspettare, questo pacco è messo da parte da tantissimo tempo. Tiriamo fuori tutto così abbiamo una visuale migliore, sempre super imballati bene i pacchi di Mini Big World Collectibles, abbiamo Pluriball, abbiamo Carta, abbiamo all'interno i sacchetti quelli là con l'aria dentro, quindi per i pop e per qualsiasi altra cosa state sempre più che tranquilli. Infatti proprio in questo pacco c'è anche un Funko Pop. Il primo prodotto che andiamo a guardare è questo portachiavi che fa parte di una nuova serie proprio di portachiavi a tema Harry Potter, ma sul sito sono presenti anche altri fandom, ad esempio ce n'è uno che a me piaceva tantissimo di Slot de Gunis, che probabilmente prenderò in futuro. E, ragazzi, ecco qui, in questo caso io ho scelto quello della serie Harry Potter e ho preso proprio Harry con la spada di Grifondoro. È un portachiave gommato ed è davvero parecchio grande, guardate, si vede benissimo anche così. Sopra ha il suo anello di metallo col moschettone e in questo caso tiene tra le mani la spada di Grifondoro, ma esiste anche una versione senza spada e poi abbiamo anche Voldemort, abbiamo anche Ron e Hermione. Io naturalmente vi lascio i link sotto in info box e questo qui, questo portachiavi, sicuramente lo attaccherò alla mia macchina, alle chiavi della mia macchina, perché al momento sono sprovvisto, ne cercavo uno carino e che durasse, perché i portachiavi Funko, devo dire, che mi hanno un po' deluso ultimamente perché durano davvero poco. Si staccano i pezzi, perdono la testa, perdono il corpo, più che altro la testa resta attaccata al portachiavi, si sporcano facilmente, quindi adesso ho deciso di testare un nuovo tipo di portachiavi e questo qui, credo, possa fare al caso mio. Vi farò sapere più avanti quanto mi durerà. Ma, fatto vedere questo, io direi di passare alla prima bacchetta, che non so quale delle due che io ho ordinato sia contenuta in questa scatola, ma lo scopriremo assieme. Eccola qui. Abbiamo una custodia in stile Ollivander, come al solito, e in questo caso è la bacchetta, lo troviamo scritto qui sul fondo, è la bacchetta di Nicolas Flamel. Io devo dire che inizialmente non volevo prenderla, non mi aveva attirato dal principio, fin quando ho visto la recensione di Richard, di Richard che l'ha acquistata e poi ha spiegato più nel dettaglio di cosa esattamente si trattasse, come fosse composta questa bacchetta, come fosse assemblata. Naturalmente parliamo di finzione, parliamo nella mente della Rowling, e questa bacchetta, devo dire che è molto molto particolare, perché naturalmente è una bacchetta molto molto antica, la più antica finora prodotta da Noble Collection, visto che appartiene proprio a Nicolas Flamel, che sappiamo essere pluricentenario, come vediamo anche nel film di Animali Fantastici, e la sua bacchetta, eccola qui, è una bacchetta appunto in uno stile molto molto più antiquato, rispetto a quelle alle quali siamo abituati, e infatti troviamo questa parte qui dell'impugnatura in ottone, diciamo così, anche se in realtà è resina dipinta, e poi la cosa più interessante, oltre alla sua parte finale tutta in legno, abbiamo questa parte posteriore, che io inizialmente non avevo ben compreso, non riuscivo a capire, e Richard ha spiegato che invece si tratta di un artiglio di drago, quindi questa cosa mi ha fatto salire molto molto curiosità nei confronti di questa bacchetta, mi ha davvero incuriosito, e ho deciso di prenderla, e devo dire che in realtà ho fatto bene, devo ringraziare Richard per il consiglio e la sua recensione, perché è davvero molto molto interessante, molto particolare, diversa dal solito, e quindi adesso secondo me ha più senso, visto che appunto si tratta di un artiglio di drago, che inizialmente, io sono sincero, avendola vista così, non avevo colto, non avevo capito, quindi io devo dire che ve la consiglio, è molto molto bella, molto particolare, e secondo me ancora vedremo Nicola Flamel anche nei prossimi film della saga di Animali Fantastici, perché quel libro con una fenice incisa sopra, secondo me ancora ha tanto tanto da raccontare, quindi questa è la prima bacchetta che ho deciso di recuperare. La seconda invece è una bacchetta, che per un breve periodo è stata quasi introvabile su tutti i siti, anche su Mini Big World Collectibles era sparita, ma adesso è nuovamente disponibile, perché devo dire che è una delle bacchette più belle, che Noble Collection, a parer mio, abbia mai prodotto, per lo meno sulla carta, perché non l'ho ancora mai vista dal vivo, ma dalle foto, secondo me, già dice tantissimo. In molti di voi l'avranno capito, altri forse l'avranno spoilerato dalla copertina, ragazzi, si tratta della bacchetta del giovane Albus Silente. In questo caso la confezione è ocra, non è dello stesso colore di quella precedente, e sembra anche leggermente più corta. No, invece è leggermente più lunga, mi sbaglio. Tutte le scatole delle bacchette hanno dimensioni diverse, infatti non so mai come impilarle per bene nella mia libreria. E andiamo ad aprire questa qui, e scopriamo subito questa bellissima bacchetta, molto molto particolare, con una storia anche particolare dietro, visto che nelle prime immagini promozionali del film di Animali Fantastici Crimini di Grindelwald, Albus Silente aveva tra le mani una bacchetta diversa. Era molto molto simile alla bacchetta di Sambuco, aveva lo stesso design, sempre con questi pallini intervallati da linee rette, e effettivamente quando la vidi la prima volta, mi sembro abbastanza strano che per una coincidenza anche la bacchetta di Sambuco avesse più o meno lo stesso design. Infatti successivamente quella bacchetta è sparita dalla circolazione, e in tutti i poster nuovi, quelli più recenti, Albus Silente ha tra le mani questa bacchetta, che è stata rielaborata, a quanto ho capito, anche all'interno del film. In poche parole, secondo me, hanno colto le critiche arrivate dal web per quella bacchetta, e hanno un po' messo una pezza, sostituendola all'ultimo minuto. Ma ragazzi, eccola qui, a me piace tantissimo questa nuova versione, e infatti si tratta di una bacchetta col manico in metallo, con l'impugnatura in metallo, e strano ma vero, questa impugnatura qui è proprio fatta di metallo, toccandola si sente che è fredda, a differenza di quella, ad esempio, di Nicolas Flamel, dove la parte centrale in ottone è semplicemente simulata con della vernice. In questo caso, invece, abbiamo questa parte centrale in finta pelle, e poi queste parti qui, queste due estremità, sono in metallo. La parte, invece, questa qui, della bacchetta vera e propria, è molto molto interessante, perché è intrecciata in questa parte qui, e poi si va ad unire in un unico pezzo, si unisce, le due parti qui che si avvolgono, si vanno ad unire in un'unica parte finale. Io lo trovo molto molto bello questo design, molto accattivante, mi piace che la bacchetta sia nera, è acciaio, è una bacchetta abbastanza dark, però mi piace davvero tantissimo. Credo che al momento sia proprio la mia preferita, in assoluto, tra tutte le bacchette Noble Collection mai prodotte. l'unica che secondo me si avvicina in qualità dei dettagli, è quella di Serafina, di Serafina Pichery, la presidentessa del MACUSA, che è anche quella davvero molto molto particolare, con un cristallo rosa alla fine, molto elaborata, però questa qui, nella parte della bacchetta vera e propria in legno, è la più complessa, con questa spirale che si avvolge su se stessa, e poi si va a unire in questa parte finale. E da quello che ho capito, questa è la bacchetta che troviamo anche infilata, all'interno del ciondolo di Grindelwald, perché se fate caso, si vede una punta fuoriuscire dal basso, è esattamente la stessa impugnatura, nella parte superiore del ciondolo, con qui sulla parte superiore le stesse rune, quindi la bacchetta di Silente, sicuramente avrà una certa importanza, più in là nella storia. Bene, ma non è ancora finito qui il nostro unboxing, perché oltre alle bacchette, ho ordinato anche una cosa, che non c'entra niente con Harry Potter, ma che volevo farvi vedere lo stesso. Eccolo qui, un Funko Pop della serie Games, che vediamo qui imballato nel suo pluriball, quindi io adesso lo vado ad aprire, e ve lo vado a svelare. Dopo il Funko Pop di Crash Bandicoot, ho deciso di prendere questo qui, il Funko Pop di Spiro. Il Funko Pop di Spiro, che in molti di voi adesso mi diranno, si dica Spyro, ma in realtà si dice Spiro, perché è un nome greco, quindi si pronuncia in questo modo. Andiamo ad aprirlo, tiriamolo subito fuori dalla scatola, che scatola molto molto particolare, per questo Funko Pop, perché è completamente chiuso da entrambe le parti. Molto molto particolare, probabilmente l'hanno fatto, perché è incluso anche Spax, quindi questa piccola libellula, che come ricordate, vi viene sempre dietro, durante tutto il gioco, è una sorta di protezione, in più che si ha durante il gioco. Eccolo qui, è davvero minuscolo, ma fatto super bene, perché ha anche le alette trasparenti, con i glitter, molto molto carino. E poi ecco qui, finalmente il nostro Spiro. Il nostro Spiro che è realizzato, in un materiale leggermente diverso, rispetto ai soliti Funko Pop. Mi piace tanto, perché è una sorta di materiale gommato, non è la solita plastica super liscia dei Funko Pop, ma è leggermente più opaca, è un pochino gommatina, è davvero molto strana sotto le dita. Mi piace, mi piace tantissimo, e poi ragazzi, guardate quanto è bello. I suoi occhi sono lucidi, anche questa differenza, rispetto agli altri Funko Pop, sono anche leggermente più grandi del solito, e poi ragazzi, in ogni caso, è davvero bellissimo. Molto molto grande, guardate, davvero alto, le corna sono davvero state realizzate bene. Devo dire che è questo uno dei Pop più belli mai realizzati della serie Games. Quello di Crash è anche molto molto bello, io ho la versione floccata, ma questo qui, devo dire che forse lo batte per bellezza. E poi, il fatto che sia stato incluso anche Sparks, secondo me, è un punto extra, davvero. Mi piace tantissimo, lo volevo da un po', non ero riuscito a trovarlo, e finalmente l'ho beccato su Mini Big World, ad un prezzo davvero super, super vantaggioso. Io vi consiglio sempre di andare sul loro sito, perché è uno di quelli più affidabili in assoluto. Io i miei Funko Pop li prendo o da loro, o in altri due o tre negozi al massimo, del resto non mi fido più ormai di nessuno, neanche più di Pop Calce, ad esempio, col sito australiano, che mi ha creato molti, moltissimi disagi ultimamente, ma che vi racconterò in un video più avanti. Bene ragazzi, detto questo, a questo punto, io credo di potervi salutare, avrei davvero tantissime cose ancora da dirvi, ma noi ci vedremo prestissimo, con tantissimi altri video, quest'anno tanta, tanta roba, mi raccomando ragazzi, consigliate il canale ai vostri amici, iscrivetevi qualora non foste ancora iscritti, lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere cosa pensate di questi acquisti, fatemi sapere quali sono le prossime bacchette che vorreste vedere recensite sul canale e io vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo video potteriano e a breve con tante altre novità, probabilmente anche potteriane. Ciao! 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 Grazie a tutti.